Viene meno l'impianto accusatorio contro le maestre di caselle in Pittari, accusate di maltrattamento a danno di bambini dai 6 agli 11 anni avvenuti tra il 2011 e il 2014. Il giudice riqualifica il reato riconoscendo per le maestre il solo reato di abuso dei mezzi di correzione e respingendo peraltro la richiesta di risarcimento del danno avanzata dagli avvocati delle famiglie. La procura aveva chiesto condanne per tre delle quattro insegnanti coinvolte e accusate del grave reato di maltrattamenti in famiglia, reato che come dall'articolo 572 del codice penale si riferisce anche a maltrattamenti avvenuti a danno di persone sottoposte all'autorità della persona accusata per fini educativi. Da qui l'accusa verso tre delle quattro maestre indagate difese rispettivamente dagli avvocati Patrizia Plaetano insieme a Michele Tedesco, Franco Maldonato, Yolanda Cennamo e Nicola Pellegrino, quest'ultimo difensore della docente che a differenza delle altre doveva rispondere della sola accusa di abuso dei mezzi di correzione che prevede una pena di tre mesi con sospensione condizionale per il quale il PM aveva chiesto l'assoluzione concessa dal giudice. Assoluzione arrivata anche per l'allora preside dell'istituto accusato del reato di omissione e per il quale il PM aveva chiesto la condanna a nove mesi mentre il giudice ha deciso per l'assoluzione. Per le tre maestre che dovevano rispondere dell'accusa più grave il giudice a seguito del lavoro svolto dagli avvocati delle tre docenti Plaetano, Tedesco, Maldonato e Cennamo ha stabilito la modifica del capo di accusa riqualificandolo in un reato meno grave. Le tre maestre erano accusate di maltrattamenti in famiglia che prevede una pena che va dai due ai sei anni di carcere e per le quali il PM aveva chiesto la condanna a due anni e otto mesi di reclusione. Il giudice nell'emettere la sentenza ha invece stabilito la riqualificazione dei reati e per le tre maestre accusate di maltrattamenti è stato invece riconosciuto il solo reato di abuso dei mezzi di correzione, decisione questa che ha prodotto una decurtazione della gravità del reato e quindi della pena, fissata in tre mesi sospesa. Il giudice del Tribunale di Lago Negro, nell'emettere la sentenza, ha stabilito il non riconoscimento del risarcimento del danno richiesto dalle parti, rigettando di fatto la richiesta avanzata dalle famiglie.